Un viaggio a tutto tondo tra le musiche devozionali legate al Natale, partendo da canti e racconti di Santo Alfonso Maria dei Ligori. All'auditorium di Pagani la prima edizione della rassegna musicale Quando nascette Ninno, canti e musiche del Natale dalla tradizione ai giorni nostri. La rassegna, che rientra nel cartellone natalizio del comune di Pagani, vede il coinvolgimento di formazioni corali maschili, femminili e miste, giovanili, amatoriali e professionali, nonché formazioni orchestrali. Sarà segna Quando nascette Ninno, che ha l'obiettivo innanzitutto di raccontare la storia attraverso la musica, ha l'obiettivo di rendere attuali e moderni argomenti e parole antiche, ha l'obiettivo di trasformare in emozioni quello che troppe volte poi viene dimenticato, per cui più di 600 alunni, più di 10 scuole di tutta la provincia di Salerno. Io sono molto orgogliosa. Poi la presenza qua, insomma, c'è una pigotta con me, perché questi due giorni sono stati anche patrocinati dall'Unicef, per cui vi ricordiamo che soprattutto a Natale è importante donare. Stasera è stata una grande emozione, una grande gioia trovare, io dico, un terreno fertile, perché sia il sindaco, sia questa bellissima dottoressa Serena e della Monica hanno voluto dedicare questo momento meraviglioso del Natale al pensiero di tanti bambini che soffrono, di tanti bambini che hanno bisogno di noi. E donare proprio questo significa pensare agli altri. Se noi doniamo qualcosa a Natale, la nostra vita non si cambia. Con loro, con le scuole di Pagani, possiamo creare una rete di città e di scuola amica. In questo senso noi riapriamo la succursale, il vero fulcro dell'Unicef a Pagani. Penso che abbiamo realizzato qualcosa di bello, ma non peraltro perché omaggiamo Santo Alfonso con i suoi canti, partiamo dalla tradizione, però poi ci avviamo verso la modernità, perché chiaramente parliamo di bambini, ragazzi, quindi porteranno canti della tradizione natalizia internazionale. Penso che per loro sia un'esperienza notevolissima il fatto non solo di confrontarsi al cospetto di un pubblico, ma il poter esternare quelle che sono le proprie capacità culturali e anche artistiche. Non portiamo canzoni natalizie, o almeno portiamo delle canzoni natalizie che arrivano dal nord dell'Europa, ma in questo caso sono solo due canzoni. Questa sera riguarderanno più la figura della donna, le figure femminili antiche, che è l'atmosfera natalizia, perché di natalizio ci sono i ragazzi che portano tantissima gioia e tantissime melodie tipiche. Noi questa sera cercheremo di fare qualcosa di diverso. Io suono l'arpa celtica e canto e poi mi do un po' le percussioni e anche un po' la tastiera ogni tanto. San D'Alfonso è un patrimonio comune della campania, della nazione, un dottore della chiesa, però ripeto a Natale in maniera particolare viene su questa figura di musicista, il santo anche musicista. Con tutta la sua santità. Con tutta la sua santità. Abbiamo già avuto delle grosse manifestazioni natalizie, un cartellone che è alle mie spalle, perciò ho preferito fare qui l'intervista fitto, pieno, fino al giorno della Befano. Quest'anno veramente abbiamo fatto le cose in grande.